Facciamogli vedere chi comanda! Ho bisogno di aiuto! Sforzato nemico danneggiato! Snotte 1 Basta 2 Sforzato S anthem Suntte 2 Suntte 3 Suntte 2 Suntte 3 Suntte 2 Suntte 4 Suntte 4 Apoi Suntte 3 ci abbiamo danneggiati bel colpo è rimborsato bel colpo aiutami l'abbiamo preso bel colpo li abbiamo danneggiati corazzato nemico danneggiato preso arrivo in tuo aiuto l'abbiamo preso bel colpo li abbiamo danneggiati bel colpo veicolo nemico distrutto attenzione ritirati razzato nemico danneggiato mi abbiamo danneggiati mi abbiamo danneggiati corazzato nemico danneggiato Centrato! Preso! L'abbiamo preso! Ora stato nemico distrutto! Li abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Centrato! Centrato! L'abbiamo preso! Beccato! Centrato! L'abbiamo preso! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.